Cari amici, bentornati da Sebastiano Dato in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Abbiamo già parlato in passato di invidia, l'abbiamo definita come il male per il nostro benessere personale, per noi stessi, ma anche il male per le nostre relazioni, i rapporti interpersonali che creiamo con le altre persone. Ed esiste un altro tipo di invidia, che è quella non che proviamo noi, ma che invece ci rende oggetto dell'invidia di altre persone. Persone che possono appartenere a un contesto familiare che viviamo, alla nostra famiglia quindi, al nostro contesto lavorativo, sono dei colleghi, addirittura tra i nostri amici. E questo sai bene che può diventare qualcosa di molto frustrante e che può farci star male. E quindi che cosa fare in questi casi? Cioè come comportarsi nel momento in cui si è l'oggetto dell'invidia di qualcuno? Oggi scopriremo un po' questo e partendo proprio dalla nostra esperienza personale dall'invidia e capiremo insieme come difendersi dall'invidia altrui. Partiamo da noi, dall'esperienza che abbiamo tutti avuto con l'invidia. Prima o poi siamo stati tutti invidiosi, almeno per delle piccole cose. E che succede? Succede che in una prima fase iniziamo a chiederci ma perché lui sì e io no? Perché il mio collega ha avuto la promozione e invece io no? Perché quella persona, quell'amico riesce a conseguire così tanti successi, risultati positivi, perché mio fratello ha una bella famiglia e io invece no? Questa prima fase dell'interrogazione, del dubbio, è quella fase che ci fa sentire inferiori rispetto all'altra persona. Cioè facendoci queste domande ci poniamo su un piano che non è livellato rispetto alla relazione con l'altro. Siamo in una posizione di vera e propria inferiorità. E questo fa veramente star male. Perché? Perché si vede l'altro, anche perché etimologicamente invidia riporta all'atto di vedere, si vede l'altro e ci si continua a paragonare a ciò che si è osservato. A questo cosa subentra? A un certo punto subentra la rabbia. Questa emozione che contiene così tanta energia che bisogna indirizzarla da qualche parte. Ed ecco quindi la seconda fase. Cioè la fase in cui la rabbia viene scaraventata contro l'altra persona. Quasi come se la famiglia di mio fratello è una bella famiglia, se la promozione del collega ha danneggiato, mi ha messo in un piano di inferiorità, è colpa proprio del collega, dell'amico, del fratello. E allora bisogna vendicarsi. Cioè questa rabbia serve a danneggiare l'altra persona. In qualsiasi modo. Magari mettendo tutto l'ufficio contro e magari creando delle dicerie sul conto dell'amico dicendo che è una persona falsa, dicendo che parla male di tutti alle spalle e così via. Così come un atteggiamento di voler fare terra bruciata attorno all'altro. Ecco questo è l'invidia che proviamo noi stessi. Allora partiamo da questa esperienza per comprendere tutto il contrario. Se è vero che ci sono queste due fasi, quando siamo oggetto dell'invidia subiamo queste due fasi. Siamo noi le vittime di questa rabbia, di questo danneggiare, di questa osservazione che ci pone su un piano diverso rispetto agli altri. E allora rispetto proprio al senso di inferiorità che prova l'altra persona, questo ci può far star male. Perché prova a pensare a un amico che da un giorno all'altro si allontana. Un amico che da un giorno all'altro ti isola e non ti dà delle risposte. Ti dice no no sto bene e tutto a posto a non preoccuparti. E in realtà il suo atteggiamento non è allineato rispetto a quello che dice. Questo fa star male soprattutto per le relazioni che hanno un certo legame. Ci si chiede ma cosa avrò fatto di male? Perché è impensabile che magari quell'amico è arrabbiato con noi perché abbiamo avuto successo rispetto a una proposta fatta al gruppo intero di tutti gli amici. Qualcosa che non riusciamo a immaginare. E poi nella seconda fase quando avviene il danneggiamento, la distruzione intorno dei legami affettivi oppure l'invenzione di voci sul nostro conto questo fa ancora più male. È una ferita. E quindi che cos'è? Che si trasforma. In che cosa si trasforma un evento bello che ci ha reso protagonisti? In qualcosa che in realtà ci fa soffrire. E quando dovremmo invece gioirne, esserne felici tutti insieme? Mi è capitato più volte di lavorare con persone che riportassero questo tipo di problematica sul posto di lavoro. Ho avuto una promozione, i miei colleghi hanno fatto terra bruciata attorno a me. Cioè mi hanno isolato. Quasi come se la colpa fosse mia per quella promozione. Ma soprattutto quasi come se quella promozione, una cosa così bella, fosse qualcosa da additare. Non dovevi avere quella promozione. Dovevi rimanere insieme a noi. Ecco questo è proprio il meccanismo di cui stiamo parlando. Cosa ne consegue? Ne consegue che l'invidia messa in atto con questi atteggiamenti e porta a dei tentativi di compensazione rispetto al dislivello che si è venuto a formare nella relazione. Chi prova invidia si sente inferiore e allora prova a riportare sul proprio stesso piano l'altra persona. Questo però che cosa comporta? Comporta sul livello personale un demandare la responsabilità rispetto a quello che si può fare. E non solo. A livello relazionale, come ti dicevo, qualcosa di così bello come il successo di una persona, soprattutto se a quella persona le si vuole del bene, e qualcosa di così bello diventa un motivo per creare astio, per creare ostilità, per diffondere invece l'odio al posto proprio della gioia. Infatti quale può essere invece l'atteggiamento propositivo e nettamente inverso che può far star bene tutte le persone, sia chi ha conseguito un successo, chi no? Quello dell'empatia nella gioia. C'è un video del maestro Mauro Scardovelli, un giurista, uno psicoterapeuta, che parla proprio di questo concetto, riprendendo il concetto di empatia in chiave rogersiana. Parla di empatia non soltanto per le emozioni che l'altro sta provando e che non sono proprio piacevoli, non fanno star bene l'altra persona, la tristezza, la rabbia. Ma parla anche di un'empatia che si sposta sul piano della gioia, di quelle emozioni che sono così belle da volerle invece condividere. Ecco, l'empatia nella gioia si traduce in questo sono felice per te, per quello che stai ottenendo, e in questo modo la nostra felicità diventa ancora maggiore. È un accrescimento della gioia condivisa non solo a livello individuale ma a livello del gruppo che se ci pensi è qualcosa di veramente lineare e logico. Se una persona sta bene e quindi l'altro sta bene per lei, allora sono due persone che gioiscono, sono due persone che sono felici e che in quel momento stanno bene. Qualcosa di molto più grande che non si rinchiude nel singolo di ciò che prova e che quindi si traduce nell'astio dell'altro. Allora questo porta a un'altra conseguenza che è quella di accedere intanto non all'invidia ma all'ammirazione dell'altro. Io ti ammiro per quello che stai portando avanti, ma soprattutto quando amiamo qualcuno ti è mai capitato di entrare nel suo modo di pensare, nel suo modo di fare le cose, anche dei personaggi che magari abbiamo come idoli, nel suo modo di vestire, cerchiamo di imitarlo, nel suo capiamo le canzoni che sceglie, i libri che legge e ci avviciniamo a quel mondo non per distruggerlo ma al contrario per farlo un po' più nostro. È il cosiddetto modellamento interno. Scardovelli dice ancora che questo è proprio accessibile attraverso l'ammirazione, cioè modellando l'altro inizia a comprendere che non è la domanda giusta perché lui sì e io no, ma la domanda giusta diventa come anch'io posso fare per conseguire quegli stessi successi, quei risultati. Qualcosa che posso fare soltanto empatizzando, altrimenti non si costruisce qualcosa insieme ma lo si distrugge. Quindi quello crea separazione, crea conflitto, crea dissapore, dispiacere nella propria vita. Ma tornando al discorso principale quindi, una volta che subiamo l'invida degli altri, come possiamo combatterla? Beh, intanto è chiaro che non possiamo cambiare gli altri, non possiamo dire tu non puoi provare invidia, fosse anche il nostro fratello, fosse anche il nostro migliore amico. Possiamo però cambiare noi stessi, il nostro atteggiamento. E quindi il primo punto è quello di comunicare, comunicare come ci stiamo sentendo, soprattutto per le relazioni in cui c'è una forte affinità, c'è un forte legame di tipo affettivo. Non dobbiamo comunicare all'altro chi si sta comportando in un determinato modo, giudicandolo, ma dobbiamo sempre adottare il metodo non violento, il metodo che costruisce e che quindi non separa nella relazione. Quindi dire proprio, guarda, quando tu fai in questo determinato modo io mi sento triste, io mi sento messo da parte, mi sento isolato. Quindi comunicare che tra l'altro è anche una parte dell'empatia vera e propria, cioè riuscire a contattare il proprio stato d'animo e comunicarlo, lasciare che vada verso l'altra persona. Secondo atteggiamento, se è vero che l'empatia nella gioia crea ammirazione, allora noi stessi possiamo porci come modello per gli altri. Quindi se noi empatizziamo, modelliamo. Ma se noi comprendiamo che dall'altra parte c'è una persona che condivide con noi lo stesso obiettivo, perché l'invidia agisce proprio su questo dà un'indicazione rispetto alla privazione, alla mancanza, perché entrambi stiamo andando verso quella direzione. E allora porsi come modello significa, l'ho fatto anch'io, posso aiutarti a comprendere come anche tu puoi farlo. E qui potremmo dire, beh sì, ma se ci poniamo in questa posizione non potrebbe avere l'effetto contrario sull'altro, cioè l'altro non potrebbe pensare, ma guarda questo, non solo vuole avere successo lui, ma pure me la vuole fare pagare. Questo è vero, ma dobbiamo essere intelligenti noi e bravi nell'empatizzare e rispettare il confine altrui, cioè fare una proposta, avvicinarci piano piano, non dobbiamo essere lì invadenti come avvoltoio e dire ti aiuto io, adesso è arrivato il supereroe che ti porta verso la cima. No, questo non dobbiamo farlo, è sempre un atteggiamento non violento anche in questo senso, nel pieno rispetto dei confini dell'altra persona. Terzo punto invece è quello di rivalutare, qualora tutto questo non dovesse portare a buon fine. Rivalutare che significa? Beh, rivalutare intanto partendo da noi. Una volta che comprendiamo che il meccanismo della nostra invidia è lo stesso dell'invidia dell'altra persona, che il nostro obiettivo nel momento in cui siamo invidiati è lo stesso, se non variabile per alcuni elementi, dell'obiettivo dell'altra persona, allora possiamo comprendere l'atteggiamento altrui. E se questo inizia a fare terra bruciata, danneggiarci troppo, intanto possiamo comunicare con le persone che vengono coinvolte esternamente in questo circolo. E poi possiamo anche decidere di chiudere con quella relazione, cioè possiamo allontanarci, possiamo ignorare, andare oltre, guardare oltre anche quando in quella relazione è coinvolto un nostro parente che ci invidia, che cerca di metterci in cattiva luce rispetto a tutti gli altri. Vado a risanare con chi è disposto ad accogliere questa mia proposta, questa nostra proposta di risanare all'interno della famiglia, degli amici e poi decido che cosa fare con quella relazione. Se voglio continuare a subire in questo modo oppure se voglio prendere altre decisioni, tra cui anche quella dell'allontanamento, di separarsi e di quindi non creare conflitto, ma al contrario creare delle situazioni più neutre in cui io per primo, avendo compreso, non soffro per quello che proviene dall'altra persona perché comprendo benissimo le sue ragioni. Questi quindi erano i punti che avevo da suggerirti per difendersi dall'invidia altrui. Se ti sono stati utili ovviamente e se hai altri suggerimenti da dare ti invito a farlo nei commenti e a condividere questo episodio con le persone che possano trarne beneficio. Se invece vuoi ricevere altri stimoli extra oltre a questi episodi canonici basta mandarmi un messaggio al 329-3211-971 su whatsapp con su scritta la parola gioia oppure vai su sebastianodato.it slash gioia. Infine ringrazio come sempre tutti i finanziatori di Vivere in Armonia che rendono possibile questo progetto di divulgazione e che aiuta tante, davvero tante persone. Sono tanti feedback e tanti i commenti di persone che riescono ad avere nuove chiavi di lettura e ad avviare un nuovo cammino di crescita personale. Se anche tu vuoi far parte di questa community basta andare su vivereinarmonia.com e comprendere come a partire da un dollaro al mese puoi finanziare questo progetto accedendo a tutti i contenuti riservati e agli strumenti che ho creato apposta per chi decide di salire a voi. Un abbraccio, alla prossima!